L'estate 2024 sarà molto probabilmente la più calda da sempre. Il livello di umidità, di calore, di temperature elevate per un periodo lunghissimo non ha precedenti. E gli eventi estremi si sono succeduti dalle Alpi fino all'estremo sud del paese. Abbiamo avuto trombe d'aria, abbiamo situazioni di grandinate straordinarie. Di fronte a questo il governo deve rispondere e dire al Parlamento che cosa vuole fare. Non è possibile che si discuta di manovra finanziaria per quanto riguarda una serie di economie, di risparmi, di tagli drammatici e non si dica nulla sulla catastrofe climatica che rischia di costare al paese centinaia di miliardi di euro. Questa è un'emergenza a cui il governo deve dare risposta.